Il Museo Storico dei Pompieri della Croce Rossa italiana si sviluppa su 2.500 metri quadri e conta migliaia di reperti di importanza che vanno dal 700 alla fine del 900. Le parole non bastano per descrivere tutto quello che c'è. Servirebbe fare una visita per dire tutto perché ci vogliono ore intere per descrivere tutto ciò che contiene il museo dai mezzi, alle attrezzature, alle uniformi, ai copricapo, alle medaglie, alla gettistica, alle attrezzature, alla buffetteria, c'è di tutto in questo museo.